Ciao a tutti, sono felicissima di poter venire da voi a Palermo, al Teatro Massimo, dal 10 marzo per 10 giorni con una commedia fantastica scritta da Iaia Chiasti, con le musiche di Giorgio Gabber e la regia di Linea Vermeule, con dei colleghi straordinari, una bellissima messa in scena, tempo per vivere, per godersi la vita e per ragionare anche un po' su a che servono il bambino?